Ciao, siamo i Vintage Hunters. Amiamo il design, il modernariato, l'antiquariato. Collezioniamo oggetti di un tempo e doniamo loro nuova vita. Seguici sul nostro negozio. Troverai macchine per scrivere, macchine per caffè storiche, radio, insegne, proiettori, fotocamere analogiche, servizi di porcellana, lampade, collezionismo pubblicitario, mobili e molti altri complimenti d'arredo, disegnati e prodotti da eccellenze italiane e internazionali. Tra le categorie del nostro negozio potrai trovare anche amplificatori, stereo e hi-fi del passato, vinili, dischi per grammofono, musica 7, televisori, magnetofoni, tutto per gli audiofili. Scopri tutti i nostri articoli. Ogni settimana rinnoviamo il catalogo con novità e curiosità. Siamo anche su Instagram, su Pinterest e su TikTok. Vintage Hunters Shop. Grazie a tutti.